Sono le 3.36 del mattino, come vedete splende ancora il sole, mi ho approfittato per salire in cima alla montagna, abbastanza in culo ai lupi, per entrare furtivamente nello stadio del tronzo, ma la cosa più bella di tutti, come potete vedere, è questo oggetto qua, no, non il mio zaino, non il fatto che io stia calcando questo terreno di gioco, ma bensì provate a indovinare cosa? Avete proprio indovinato, un pallone, eccolo lì, qualcuno non si è preoccupato minimamente di raccoglierlo e così mi accingo a rabattere un calcio di rigore. Parte Rizzo, rete, missione compiuta.